ci troviamo al comunale di miglianico da questo lato c'è il cimitero c'è la squadra locale del miglianico calcio da questa c'è il direttore di gara della sezione di chieti che si sta riscaldando la c'è i ragazzi della panchina del miglianico qua c'è il gruppo nostro ok per michele dove sta per lele dove sta lele lele tuo nonno ti ha promesso 20 euro sì sì allora che dici a posto ecco c'è il nonno di lele super tifoso del suo nipote sta là ha offerto 20 euro a lele se fa il gol allora abbiamo i nostri ragazzi che si stanno ancora riscaldando manca una manciata di minuti per l'inizio della gara abbiamo qua in partenza alessio ceroli federico tucci tedi mata niccolò perrucci lele pitbull dondino dondino ce l'abbiamo niccolò michele e mister gabriele che oggi sostituisce mister giovanni fuori sede si ok